Salve, oggi è il 19 dicembre 2020 e qualche minuto fa ho preso la decisione di lasciare perdere con l'OPPT, un gruppo sovranista che ho conosciuto ultimamente seguendo per almeno una quindicina di giorni, i video, il sito che loro hanno aperto che al momento mi aveva colpito, però andando avanti con l'esperienza di cercare di essere attivo non ho potuto fare a meno di sentire che il mio istinto mi comunicava una sensazione che conosco, che mi è già capitato con l'esperienza precedente con gruppi sovranisti, sto parlando della Veritas che aveva messo su Michele Lombardini che si faceva chiamare Anam, che mi ha praticamente creato un problema che sono convinto si risolverà in qualche modo perché non ho commesso nessun crimine, hanno semplicemente negato i miei diritti di essere umano ad esprimermi, cosa che è riconosciuta sia dalla posizione italiana e anche dalla posizione europea e soprattutto dal buonsenso, dalla legge divina che ci crea e ci rende liberi di viverci la nostra vita come meglio vogliamo rispettando i tre canoni fondamentali, non creare perdita, non creare un danno e non creare truffe, non confondi nessuno, cosa che io non ho fatto mai, però tornando all'OPPT formalmente le cose si presentano anche bene, Barbara Banco sento che è una persona molto accorata, quando parla la sento in buona fede, poi non lo so se lei ha delle notizie che non vuole dire, però a livello epidermico la sento una persona sincera e di cuore, di cuore, come lo sono credo anche gli altri, c'è un altro uomo che, non parlo di Marco Missinato mi sembra, no? Che anche lui si presenta bene con i discorsi, però già più di Barbara Banco lui mi fa storcere un po' il naso, perché mi dà personalmente la sensazione di fare un po' di essere un po' l'artisterializzato, sensazione a pelle, no? sento più sincera la Barbara Banco, Missinato lo sento più in posa, poi c'è un altro personaggio che fa anche di, adesso non mi chiami Andrea, che è quello che ho sentito parlare, mi sembra anche lui in buona fede, però mi sento di non seguire questa esperienza, perché ho sentito delle assonanze troppo uguali alla esperienza avuta con la Veritas, da parte delle persone che seguivano, anche se secondo me qui sono un po' più fantablisse che nel gruppo della Veritas. Nel gruppo della Veritas c'era il discorso Network che aveva annebbiato un po' la mente di varie persone, perché la comunicazione che passava era poi anche fare dei soldi, crearti un lavoro facendo divulgare e usando il diritto naturale a difesa dei cittadini che sono vessati, ovviamente dal governo che ci sta manipolando, perché questo Natale è qui, no? E questo, per esempio, che è qui, specialmente che si vede, è un simbolo che ci sta accompagnando in questo Natale più buio da quando la storia che ci siamo bevuti, che ci hanno tramandato, ha mai vissuto. Siamo caduti nelle stesse trappole, nella stessa rete dei vecchi democristiani che a conti fatti non erano i peggiori, ha fatto le porcate, ma non erano i peggiori. Quelli che ci sono adesso sono una cosa indecente. I 5 stelle sono stato l'ennesimo specchietto per l'ordine che ha fatto credere al popolo, abbiate pazienza, stavolta è finita, va su della gente onesta, infatti dicevano onestà, 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 si viste, no? L'onestà che hanno loro. Hanno fatto le stesse identiche cose degli altri. I prossimi, al quale la grande maggioranza del popolo italiano, chi crede ancora che le elezioni possano essere un vantaggio per la democrazia, Salvini e Lameloni sono già venduti, lo vedo già. L'opposizione che hanno fatto è fittizia. Sono molto bravi a sbraitare, braitare a parlare tutti quanti bravi. come nell'OPPT, come Anam nella Veritas, come altri gruppi. Ho sentito ultimamente un altro video dove c'è un ragazzo, che anche lui è un futariano, Cerachini, che ha un canale YouTube dove viene chiamato Carpos. Ho sentito un suo video intervistato da Luca Nalli, dove lui parlava di varie cose sulla sua verità molto importante e poi seguendo un altro video lui ha letto tutto il testo di un avvocato che a dire di Cerachini andava con il suo interesse perché diceva che essendo un avvocato, l'avvocato guadagna difendendo le persone dalle cause, invece con questo testo che lui ha letto diceva che lui va contro i suoi vantaggi professionali perché con quella comunicazione ci rende praticamente autosufficienti nel difenderci contro il potere. E diceva alla fine, offro questo demetrio, adesso non mi ricordo il cognome, l'avvocato e poi l'ho scritto e mi ha risposto in maniera che mi ha fatto cadere in maniera subito, però siccome nel video questo qua diceva offre questo avvocato consultazioni gratuite a chi desidera essere sovranista, ora io l'ho contattato, gli ho chiesto alcune cose e questo mi ha risposto e mi dice no no, non è assolutamente vero, voglio 50 euro all'ora, è gratuito solo per gli amici e poi non mi piace che gli dice parolacce, io non avevo scritto nessuna parolaccia, forse mi viene in mente adesso negli allegati che gli avevo messo sulle multe verbali che mi hanno fatto sui falli artistici, io le avevo, le ho tuttora classificate, nominate come multe del cazzo, forse è l'unica parolaccia che lui può... comunque, morale questo sovranista di nuovo si è rivelato il contrario di quello che promettevano, per cui non lo so come si sono messi questi gruppi sovranisti probabilmente può darsi che sia tutta una stronzata, sono comunque sicuro che la vita non abbandona i suoi figli che desiderano avere un'esperienza di vera libertà, non li abbandona e... ciao Micina... e personalmente mi considero molto fortunato perché la vera libertà ho scoperto che è un sentimento, è un stato d'animo, che io posso attingere da dentro il mio cuore, da dentro di me il posto che nessuno mi può portare via, nessuno può portarmi via, non c'è nessun conte dell'ultima ora che mi può impedire, non c'è nessun dpcm che mi può impedire di entrare nel posto libero che ha dentro di me e ho un maestro, un maestro che da 40 anni, ormai 41 anni, mi allena a percepire sempre di più su quell'esperienza che promettono i vari gruppi sovranisti ma che la loro ingenuità e soprattutto la loro mente... stai attento che mi fai cadere... mi fai cadere le sculturine e tu sei sopra beffando la pazza... vai... vai tranquillo... vai... la chiudo qui perché c'è Mimì che mi sta dicendo che siamo arrivati alla fine... insomma i gruppi sovranisti non ce la fanno perché hanno a che fare solo con la loro mente... e la loro mente... e la loro mente... è un po' come la tua che stai a rompere il cazzo... vi fai dire le parolacce che non piacciono agli avvocati sovranisti... ho fatto una magia animale... chiudo la faccenda per giustificare perché non mi sento andare avanti con questa bella esperienza che mi era suonata dell'OPPT... riconoscendogli comunque la validità... se loro riescono ad ottenere dei risultati io sono felicissimo... però il mio istinto che non posso far finta di non sentire... mi dice il contrario... mi dice che per me non è la mia strada... non è la mia strada... la mia strada continua ad essere la strada che 41 anni fa per Ravat mi ha indicato... dopo una mia contestazione ferocissima e ingiustificata... però poi un piccolo berlù... una piccola scintilla mi ha detto... ok... metterlo alla prova... non dal suo di pregiudizio... no... metterlo alla prova... ho messo la prova e... le dimostrazioni che mi ha dato... al mio istinto... lo hanno... appagato... gli hanno risposto come si deve... cosa che non è successa... con l'OPPT adesso... e non era successo neanche con la Veritas... anche con la Veritas... avevo questa sensazione... però... giustificavo... sentivo che quando parlavamo di pace... non intendevano la pace... come la intendo io... che è veramente... l'unica cosa... che ci potrà salvare... dalla schiavitù... è la pace che risiede nel cuore di ogni essere umano... e... ovviamente anche nel mio... non... lo sentivo che non era... una cosa sentita... era una parrilla buttata lì... e per cui... questo è il video che io... mi sento di fare... per... dire... la mia esperienza su... l'OPPT... l'OPPT... ha troppe incongruenze... è troppo... ingenuo... pensano che quel potere... che ci sta schiavizzando... che non sto negando questo... tutto quello che dicono è giusto... sulla schiavitù... ma non ci si libererà in quel modo lì... sono molto più forti... molto più astuti... ma con un maestro... con un maestro... come Pre Ravatt... che non parla mai di sovranità... e se non l'ha mai fatta... perché non ha senso... farlo... la chiave... affinché io possa essere libero... e sentire questa libertà... che diventa... uno stato d'animo... di... esperienza... che mi fa stare... semplicemente... bene... a posto... dove io lì mi sento libero... anche se mi buttassero in cielo di isolamento... non mi sarebbe impedito... l'accesso... a sentire quell'esperienza... di... libertà... di pace... di amore... di benessere... di armonia... di cui ce n'è un gran bisogno... almeno per me... non mi sarebbe impedita... per cui qui chiudo... faccenda... vi faccio salutare... per fare dalla pace... che è qui... che sta guardando... il simbolo di... Gesù Bambino... che era il maestro... della conoscenza... del tempo di allora... di allora... è stato uno sketch... che durava... è durato solo tre anni... sul quale ci hanno... scritto... ricamato... e ha sfruttato... il potere... ha preso... quella struttura... e ne ha fatto inventare... ovviamente... come... tutte le esperienze... dei vari maestri... un'altra cosa... ma... la cosa bella... è che il maestro... della conoscenza... è sempre stato qui su... io non lo sapevo... però... è sempre stato qui su... la terra... e c'è anche adesso... e ci sarà anche il futuro... ma la cosa importante è che c'è... adesso... e io l'ho trovato... e auguro a chiunque... abbia una sete sincera... sincera di liberarsi... e non una sete di... apparire bello... apparire... spiritualmente... parolaccia... secondo me... lo spiritualismo... lo spirituale... la parolaccia... preferisco la parola... realtà... qualcuno che desidera essere realmente... se stesso... e non... pompare il proprio ego... truccato da spiritualismo... la possibilità c'è... se state bene così... bene... volete anche vaccinarvi... vaccinatevi... ne avete la facoltà... abbiamo... la scelta... io scelgo... la vita... e non mi vaccino... non mi vaccino... non mi vaccino... vi saluto... OPPT... fate quello che potete... ma... io... faccio un'altra strada... è... voglio... sì... è... ma... non... è... è... è...